In seguito all'evoluzione della situazione in Terra Santa, noi, capi delle tre comunità alle quali la Divina Provvidenza ha affidato la gloria e l'onore di far risuonare la Lodi di Dio nella Basilica del Santo Sepolcro e della Rissurrezione, vogliamo comunicare che le celebrazioni delle tre comunità, greco-ortodossa, latina e armena, continueranno regolarmente. La nota ufficiale è firmata da Fra Francesco Patton, custodi di Terra Santa, sua Beatitudine Teofilo III, patriarca greco-ortodosso di Gerusalemme e Sua Eccellenza Murhan Manujan, patriarca armeno di Gerusalemme. Tuttavia, continua la nota, per ragioni di sicurezza e per evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, verrà limitato a poche persone il numero dei partecipanti alle singole celebrazioni e la Basilica sarà accessibile solo durante le liturgie. vogliamo assicurare che all'interno della stessa Basilica continuerà regolarmente la preghiera delle tre comunità, che sarà anzi intensificata per chiedere al Padre Celeste la cessazione della pandemia, la guarigione degli ammalati, la protezione del personale sanitario, la saggezza per i pastori e i governanti e la salvezza eterna di coloro che sono morti. Noi inalziamo questa preghiera proprio nel luogo in cui, attraverso il sacrificio della propria vita sul Calvario e la risurrezione dal sepolcro il terzo giorno, il Figlio di Dio, unigenito e amato, ha vinto il male, il peccato e la morte. Il Santo Sepolcro tecnicamente non è chiuso, perché se fosse chiuso sarebbe chiuso anche il cortile antistante. Il cortile antistante fa parte del Santo Sepolcro e quindi il fatto che non sia transennato il cortile antistante già è un segno. Poi il sepolcro rimane aperto per le celebrazioni, per le liturgie. Ovviamente il tutto si farà con tutte le precauzioni necessarie. Solo pochi giorni fa, anche se con un numero ridotto di partecipanti, una delle ultime solenne occasioni pubbliche di preghiera all'interno della Basilica. Quella che ogni settimana di si tiene nella notte tra il sabato e la domenica, in preparazione alla Pasqua. Si tratta di un rito raccontato già dalla pellegrina Egeria tra gli anni 384 e 386. I frati della custodia di Terra Santa si riuniscono poco prima della mezzanotte, nella cappella del Santissimo Sacramento. La celebrazione inizia con l'ufficio delle letture, quindi un momento speciale è rappresentato dalla processione con l'Evangeliario attorno all'edicola del Santo Sepolcro. Ogni domenica viene proclamato uno dei Vangeli della Ressurrezione, poiché questo è il luogo della tomba vuota, da dove è risorto Gesù. A presiedere la celebrazione, fra Francesco Patton, custode di Terra Santa. Da qui, dal luogo per eccellenza della vittoria di Gesù sulla morte, sale la preghiera dei frati francescani. La comunità francescana del Santo Sepolcro vi sostiene con la loro preghiera, con la vostra preghiera, con la preghiera del mondo in questo momento di difficoltà. Pace e bene. Grazie.